Secondo il paradosso di Moravec, l'intelligenza artificiale, attività motorie, che noi consideriamo semplici, totalmente naturali, richiedono enormi capacità computazionali, enormi quantità di calcolo e di dispositivi per fare questi calcoli, cioè i neuroni. È controintitivo perché questo tipo di movimenti, camminare, ballare, mangiare, sono per noi assolutamente naturali, ma per descriverli a livello formale, di calcolo, matematico, sono complessissimi, molto più complessi del ragionamento logico, del sillogismo, della logica di alto livello, che invece è facilissimo da descrivere a livello formale, a livello di computer. Paradosso di Moravec. Grazie.